Sordi, 70 anni, con un giallo da risolvere. L'enciclobide dello spettacolo dice che lei è nato nel 19. Io non ho mai rettificato come non ho mai rettificato tante cose che sono parto della fantasia degli uomini. Mi fa nascere nel 19, ma a me non mi ha mai disturbato questo. Hai mai pensato alla vecchiaia? No. Ci penserò quando diventerò vecchio, ci penserò senz'altro, perché ci dovevo pensare prima. Ma il fatto di essere vecchi per un personaggio pubblico è una cosa di cui non si può fare a meno pensarci, perché ti ci fanno pensare gli altri. Se dipendesse da me sorvolerei, non festeggerei neanche questi anniversari. Ma gli altri, sembra che si sono accaniti dai 65 in poi, stanno lì pronti a ricordarti che non sei più giovane. Ma non è che io entro in crisi o mi ammarico di non essere più giovane. Certo, bisogna condurre una vita diversa da quello che uno ha condotto prima, bisogna pensare che non si programma più. Cioè, qualche cosa a cui bisogna rinunciare è una cosa che, non dico rammarico, ma insomma ti mette non di buonissimo umore. Per il giorno del suo compleanno che regalo vorrebbe dal cinema? Ma io non pretendo un regalo dal cinema. Se io ho potuto dare quel piccolo, minimo contributo al pubblico che è venuto a vedermi al cinematografo, che mi ha decretato un successo, che mostra ancora di avere un gradimento, e di questo sono felice che è il miglior regalo che io possa ricevere. L'ingradimento del pubblico, avendo fatto di questo lavoro una ragione di vita, è il miglior regalo che uno si aspetta, insomma, nella vita, nell'arco di 40 anni di cinematografo. C'è un legame molto stretto con questa terra, un legame di parentela legato, credo, proprio alle sue origini. Un legame nostalgico, ma non è una constatazione da parte mia. Sono tutti i racconti che mi faceva mia madre, che ha vissuto molti anni della sua vita qui a Pesaro, che si è sposata qui a Pesaro, che ha conosciuto mio padre, che si era diplomato al concertatorio di Pesaro, come musicista mio padre, e poi racconti così di parentele legati a mia madre, di parenti che io non ho mai conosciuto, ma insomma, sì, c'è un ricordo sentimentale, nostalgico, legato a mia madre. Interpreterebbe il ruolo di Gioacchino Rossini, Pesarese illustre, in un film che qualcuno vuole già in cantiere? Ma io non sono mai d'accordo ad interpretare un personaggio storico, un personaggio realmente vissuto, che ha una faccia, un suo modo di vivere, un suo modo di essere rappresentato. Non sono spinto da... però, essendo un musicista, essendo un autore di opere che io amo, essendo io un cantante mancato, perché la mia prima attività era quella di diventare un cantante lirico, un basso, legato soprattutto all'opera del barbiere di Siviglia, beh sì, lo interpreterei proprio per amore alla musica e per amore al musicista. Grazie per la visione!